Salve a tutti ragazzi, eccoci qua trovati in questo video della carriera giocatore insieme a E-Craft Allora, nelle scorse due live, per chi se le fosse perse, ve la lascio qua sulle descrizioni L'episodio 18, l'episodio... no, l'episodio 17 e l'episodio 18 Due live dove abbiamo fatto il mondiale, l'abbiamo anche vinto, ma non vi dico come, ovviamente Do lo spoiler, che abbiamo vinto il mondiale, ma non vi dico come E poi ho chiesto il trasferimento e non mi è stato accettato Ho simulato un'intera annata, tutto l'anno 2023 Il Manchester City è arrivato secondo, ma non mi è arrivata un'offerta Niente, in un anno intero non mi è arrivata nessuna offerta Adesso andrò a farmi tutto giugno, tutto luglio, tutto agosto, se ci sono novità vi avverto Altrimenti simuleremo fino a gennaio e poi risolveremo fino a settembre Fino a quando non trovo una squadra per fare almeno due partiti in un video Sarebbe molto carina come cosa Ovviamente vi chiedo di lasciare un like, di iscrivervi anche se l'avete fatto Facebook, Instagram, lo trovate qua sulle descrizioni E anche i video delle live, ovviamente Le live sono sempre perfette, grazie a voi Saranno sempre bene Ok, arriva la solita email del 30 Odio, non dovrei inviare, bla 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 E si aspettano di più, ma se non mi vendete è ovvio Oh le aspettative di questa stagione vogliono che faccia sempre qualcosa di decente Ma, cioè, se guardate qui le mie azioni La richiesta di trasferimento c'è sempre Ok Costo troppo, quello è vero Però che cazzo devo dirvi Raga Visto che Non mi arrivano offerte, non mi arriva niente C'è una finale Ma la gioco contro il Manchester United Di derby oltretutto Almeno non rimaniamo un po' più fermi, fermi, fermi Che cazzo Ci siamo La finale della FI Community Shield Come cavolo si chiama Giocata a malavoglia, se devo dire la verità Perché sinceramente non ne ho voglia di giocare con questa squadra Però Dopo un anno che non gioco con loro Mi sono deciso Almeno magari mi vede qualcuno Anche se sanno chi sono E sanno quanto costa Che costa veramente tanto Almeno mi arriva un'offerta Speriamo L'anno scorso addirittura potevo vincere il pallone d'oro Questa che ho vinto il mondiale Quindi Però Se non mi arrivano offerte Ecco Già di tiro Siamo sempre gli stessi Abbastanza decenti Oh, li farò sempre vincere Guardate qua Un cross Colpo di testa E hanno preso la traversa Peccato Sono sempre io il migliore Bella parata E poi La difesa Come sempre si deve aprire Che squadrone Tivo Werner 1-0 per lo United Che cosa ha tolto De Gea Che cosa mi ha tolto De Gea Eh niente C'era il difensore Lì non la poteva parare De Gea Ma sono sfigato 2-0 2-0 2-0 2-0 Bellissimo Questa copertura Miss di Stones Ah copertura Proprio Da Da giocatore del City Riesco a segnare Riesco a segnare No No Niente Sempre De Gea Messo lì in mezzo alle palle Eh niente 3-0 Chiedo il trasferimento Perché è tanto inutile C'è il cambio Perché è tanto inutile Triple up di Werner Oh raga Fermi 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 È arrivata un'offerta Dal Milan Il Milan Il Milan Il Milan Andiamo Va fanculo Almeno cambio squadra E chi si è visto Si è visto Beh Benvenuto in squadra Benvenuto anche a lei Benvenuto anche a lei Andiamo nuovamente A rimettere Dallanare Mamma mia Ah mi sono dimenticato Una Ah fa vedere Donna Roma Conti sulle Sanci Stierni Schienetti Goretzka Icraft Suso Vega E Borini Io spero che la squadra Sia buona Perché se non è buona Mi incaccia Il numero Il numero è sempre lo stesso Poi Ovviamente I guanti Mi tocca mettere Rossi E poi Le scarpe Seleziona Scarpini Io mettere un po' di scarpe Che siano comunque Adeguate Al Milan Qualcosa di Di figo Magari Rosse Non esistono Scarpe rosse Zero No No Mizuno Manco Se mi pagano Cosa di Di balordo Cioè Le ho sbloccate tutte Non ci sono scarpe Non ne vendono Scarpe rosse Madonna Madonna Niente Zero No vabbè Non ci voglio più a credere Che non esistano Vabbè Metto Queste Dove sono Le ho perse Nuovamente Queste qua Le Predator Andiamo a giocare la prima Vediamo come gioca il Milan Soprattutto C'è lo schema Ma penso Sembra strano Però La difesa è buona Tolto Conti Centrocampo Tolto Schenetti È buono L'attacco Tolto Borini È decente Speriamo di far bene Non facciamo sei partite Ne facciamo solamente Due E poi basta Perché almeno Cioè Per vedere O due o tre Speriamo Siamo tornati nel nostro paese natale Per la prima volta Icraft Ha 26 anni A Proda In Italia Casacca Non quella dell'aiuto Che non mi ha cercato La prima offerta che è arrivata Puh Di andarmene da quella squadra Raga L'ho accettata subito Andiamo a giocare nel Milan E vediamo di far bene Soprattutto No vabbè Non possiamo iniziare così Prendendo conto il Bologna Anche qua Dai no Ti prego C'è il primo tiro con il Milan Molto pessimo Come tiro Però ci sta Dai Devo ancora conoscere bene La squadra E come gioca Soprattutto Meno male Meno male Meno male Perché due tiri Due gol Non ci stanno Stanno iniziando a giocare Un po' meglio Cazzo Un altro gol dal Bologna Mi incazzo Primo tiro Oh ma Mi fate fare almeno un tiro Bravissimo Io non ti sto a dirmi Che è Borini Che fa gol È Borini Veramente Madonna Madonna santa Primo gol Da quando gioco Chi segna Borini Mamma mia Dovrei aver segnato Non ci credo Tolto il fatto che era Ho sbagliato da lì Oh Sono riuscito a tirare Ma stranamente C'era un altro difensore Come sempre Ma così tante difensioni esistono? Non ditemelo Che mi devono cambiare Ah ok ok Meno male Ha fatto entrare Golovin adesso No veramente Adesso lo puoi entrare A golovin Era più Mamma Vabbè Skorupski Skorupski Che cosa Si è andato a togliermi Ma io non ci voglio Neanche credere Adesso hanno fatto Entrare Griezmann Gli ultimi 6 minuti Ma perché FIFA è così strano Nelle carriere Il giocatore Fa giocare solamente Gente scherza C'è Griezmann A farlo giocare Niente L'abbiamo pareggiata Non è stato un avvio Brutto La verità Non è stato un avvio Per nulla Brutto Però Purtroppo C'è 1 a 1 Va bene lo stesso Vediamo se hanno fatto i sorteggi E se soprattutto il Milan in Champions Per il momento non sembra in Champions Mi sto sclarando Ah ok Già ci sono Non ho scritto il club Battendo il sorteggio Di Gironi Ok Già ci sono Meno male Ok Non ho fatto i sorteggi Siamo contro il PSV Barcellona E il Dinamo Zagabria Non male Aspettate un po' Fra quanto è la prima di Champions Lo sapete che mi simulo La nazionale Ci facciamo Roma Empoli E PSV Poi chiudiamo il video Ci sta Ci sta Dai Possiamo titolare anche qua Per vedere la rosa Chi ha voluto mettere in campo Oggi Donnarumma Sule Sanchez Conti Terni Rabbio Goretzka Ecco Griezmann Cialanoglu Ok Titolare Ha fatto bene La prima San Siro Paglia miseria Che stadio Magari giocarci nella vita reale Quella prima con la maglia Rosso Nera Bisogna far bene Infatti iniziamo Ok Abbiamo iniziato bene Perfetto Non so chi è Goretzka 1-0 dopo 2 minuti A 34 Siamo io Siamo proprio on fire No vabbè Perché hai tirato il secondo palo E non al primo Porca miseria Brutto Brutto Però c'è Donnarumma Bel passaggio di Griezmann Poi ho sprecato tutto Io Ho sprecato tutto Voglio il gol Voglio il gol per forza Stavo giocando molto bene Siamo nettamente superiore Dispetto alla Roma Minca Voglio il gol Vabbè No ma perché Perché la passi Quando sei davanti al portiere Da lì devi tirare Porca miseria Gol Chi era? Goretzka Oh Donnarumma Donnarumma No vabbè Pare un tiro impossibile Poi Lo prendi sul tuo pallo Vabbè Pareggio Niente Niente E vabbè Non ci possiamo far nulla Adesso simuliamo quella contro le Empoli E ci giochiamo alla PSV Sì Facciamo così Ok siamo Arrivati alla prima di Champions All'ultima partita di oggi Poi nel prossimo video faremo 6 partite 6 video Diretta Dipende Ho visto che mi sta piacendo un botto Quindi posso apportare un po' di tutto ultimamente Andiamo a giocare Va la prima di Champions Così In casa poi Nuovamente a San Siro Le notte magiche iniziano Una maglia comunque Per quanto riguarda Per quanto riguarda la Champions È una maglia gloriosa Perché ha vinto tantissimo Adesso bisogna far vedere Se riusciamo a vincere con Con i graficati A questa cazzo di Champions Ok È arrivato il primo assist Proprio per lui Per Antoine Griezmann Mamma mia Penso che possa essere una bellissima copiata Penso proprio di sì E Uh Donna Roma Quando mi fa queste parate Proprio lui mi fa emozionare tantissimo No vabbè C'è una luce Ti sei messo in mezzo ai coglioni Si è fatto anche male Bravo Donna Roma Bravissimo Donna Roma Bellissima questa Eh vabbè Ma io sono comunque anche sfigato Abbastanza sfigato E poi trovi un Griezmann Che rovescia così E segna Per carità Buonissimo 2-0 Ma dai Proprio dovevo prendere Traverse fuori Beh No 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 Non l'ho sbagliato Lì ho dovuto tirare O crossare un po' più forte Peccato Ok La prima in Champions l'abbiamo vista L'abbiamo vinta Un assist L'abbiamo vinto 2-0 Potevo fare un gol Sì ma una volta me l'hanno parata Una volta ho preso attraverso la riga Poi ci ha pensato Griezmann Però Tutto positivo E nulla Penso di aver detto tutto Ci vediamo direttamente venerdì Con la carriera L'allenatore Insieme al nostro Cambridge United Con Il Milan E con Icraft Non lo so Qualche live Sicuramente Visto che il video ufficiale Su Youtube Uscirà fra due settimane Come sapete Perché faccio una settimana Sì una settimana No però qualche live Da fare Magari ci facciamo tutte le qualificazioni Per la Champions Ok E nulla Vi ho già detto tutto Tutti i link Ce li avete qua Sulla descrizione Anche le live precedenti Ci vediamo venerdì Bella